Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Domani dalle prime ore del mattino e sino alle 15.30 in centro nell'area tra Piazza Bocca della Verità, Piazza Venezia, il Colosseo e il Circo Massimo è in programma l'edizione numero 25 della Common Race for the Cure, iniziativa a sostegno della ricerca sui tumori del seno. Per quel che riguarda la viabilità sono previste chiusure al traffico e temporanee modifiche per 36 linee tra bus e tram.